Rimosso il blocco dello svincolo di Lauria Sud da parte degli autotrasportatori del Consorzio del Legno che chiedono la riapertura della centrale del Mercure di Laino Borgo. Soddisfazione e allo stesso tempo preoccupazione dal fronte del No per questo sviluppo. Ieri infatti, mentre a Rotonda si svolgeva un'assemblea pubblica per discutere le prossime mosse contro l'impianto a biomasse, in prefettura a Cosenza si è tenuto il tavolo tra i sindacati, il consigliere della regione Calabria Fausto Orsomarso, il presidente del Parco Nazione del Pollino, Domenico Pappaterra, il prefetto Gianfranco Tomao e il presidente del Consorzio del Legno della Calabria, Antonio De Renzo. L'incontro cosentino, ha detto De Renzo, ci ha tranquillizzati sul proseguo della vicenda. Entro martedì saremo a Roma per incontrare il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, e il premier Enrico Letta per firmare il decreto salvacentrale. Non possiamo aspettare i tempi della macchina giudiziaria e la sentenza del Consiglio di Stato che si riunirà il prossimo 8 aprile. Da qui la rimozione del blocco degli autotrasportatori contro i quali qualche imprenditore ha già sporto denuncia per il disagio creato nei giorni scorsi. Proprio contro la possibilità del decreto salvacentrale continuano a battersi dal fronte del no. I sindaci di Rotonda e Vigianello, Giovanni Pandolfi e Vincenzo Corraro, hanno confermato la volontà di chiudere le attività dei municipi al prefetto di Potenza, Rosaria Cicala, che comunque ha chiesto di mantenere bassi i toni. Subito dopo l'incontro in prefettura, però, la notizia dell'incontro romano del fronte del Sì. Aggiornamento che è reacceso la miccia. Prevista per domani alle 18, dunque, una conferenza stampa per delineare le prossime mosse e per studiare l'eventualità di presentarsi dal ministro per chiedere maggiore attenzione sulla vicenda, non basandosi soltanto su quanto dichiarato da Enel e dai favorevoli alla riattivazione. Sul piede di guerra anche gli ambientalisti, che sulla promessa di un decreto salvacentrale, parlano di una imposizione e di una violazione dei diritti degli abitanti della valle, che dovranno subire una scelta governativa senza che ci sia stato uno studio approfondito sulla questione.